No, sapevamo che nella prima partita ci sono sempre tante aspettative di come stanno le squadre, di come vanno a fare i campionati, vincere è sempre importante perché ti dà un attimo di fiducia per tutto quello che abbiamo davanti. Io penso che la squadra ha fatto una bella partita, abbiamo sofferto soltanto il secondo tempo, qualche minuto che lì magari dobbiamo gestire meglio la palla e fare correre a loro, non che correre a noi, però in linea generale penso che la squadra ha fatto una buona prestazione e siamo contenti, fiduciosi e speriamo con tanta voglia tutto quello che viene. Tra una settimana però sarà tutta un'altra storia, arriva il Napoli. È una squadra molto difficile, sappiamo che ovviamente il Napoli è sul campione d'Italia quindi sarà più difficile del prossimo, però noi andiamo partita dopo partita, le pescate hanno un'identità del gioco, non dobbiamo pensare che per chi viene da una possibilità la partita è presa assolutamente, le partite bisogna giocare, bisogna affrontarle con un rispetto giusto ancora ci deve migliorare, sicuramente, miglioreremo anche con il passo delle partite, con il passo del tempo e continuare in questa linea, con questa idea di tutti i comporti, quello più importante.